alla fine è stato un risultato maxi anche se era mini iena vero sì abbiamo rischiato tanto per fortuna è andato bene oggi in questo momento siamo contenti però era dura era dura e il tuo primo in questa categoria sì un'esperienza nuova per fortuna c'era poco vento logicamente con vento più forte le chance sarebbero molto minori però era una regata interessante praticamente molto molto spinta e niente dato bene a